Però ciò non ha impedito che la protezione civile del Titano abbia collaborato in stretto coordinamento nei luoghi del sisma. Prego. Grazie Presidente Bonaccini, Assessore Gazzolo, Commissario Errani, illustri ospiti, sindaci, caro sindaco Fabiani, sindaco dove ho prestato servizio. E con rinnovato piacere che prendo per la seconda volta la parola su questo palco per portare il mio saluto e quello delle istituzioni sanmarinesi, oltre a un sincero riconoscimento per tutto quello che è stato fatto e che questa giornata oggi sta celebrando.